Buongiorno, benvenuti. Prima conferenza stampa di domenica 26 novembre, concorso lungometraggi non riattaccare di Manfredi Lucibello. Alla mia sinistra ci sono Manfredi Lucibello, regista, Barbara Ronchi, attrice, Claudio Santamaria, attore, Pier Giorgio Bellocchio in questo caso credo produttore, Antonio e Marco Manetti, che stanno arrivando, stanno alla stazione, ma ce ne faremo una regione? No, vi aspettiamo con piacere. In prima fila Francesco Motta che ha composto le musiche del film e Jacopo Del Giudice che è co-sceneggiatore del film. Iniziamo subito, io inizio come al solito con la prima domanda, poi mi piacerebbe che la sala intervenisse perché sicuramente farete delle domande molto più intelligenti delle mie, questo ve lo garantisco. Allora, la prima domanda è per Manfredi, un film ambientato in una realtà distopica che invece è una realtà che abbiamo vissuto purtroppo tra noi e volevo sapere come nasce quest'idea, so che è tratta da un romanzo, quindi volevo sapere tutta l'elaborazione, hai letto la cosa, ti ha colpito, è un progetto che hai sentito tuo e che hai voluto portare in porto, come sei poi felicemente riuscito a fare. Allora, per tastino centrale, luce rossa, vai, perfetto. L'idea è di Carlo Macchitella che purtroppo ci ha lasciato lo scorso marzo. Infatti il film è dedicato a lui se non sbaglio. Che è stato il produttore di questo film e di praticamente tutti i miei film, ecco. Il film è dedicato certamente a lui. Carlo mi propone di fare un film tratto da questo romanzo chiedendomi chiaramente di trovare una chiave cinematografica. Io mi sono innamorato totalmente dell'inizio del racconto di questa telefonata. Sono stato folgorato e da lì dovevamo cercare una versione cinematografica. Sono nati questi personaggi, l'abbiamo scritto insieme a Jacopo, durante la pandemia. E questo chiaramente ci ha influenzato, che poi non è proprio un bel termine dire, la pandemia ci ha influenzato. Però al di questo ci ha colpito profondamente questa solitudine. Eravamo tutti noi circondati a questa solitudine che è chiaramente entrata a far parte del film. Bene, qualche domanda? Considerando che abbiamo praticamente tutto il film a disposizione, produzione, attori. Prego, nome e cognome? Buongiorno, Luca Giardino, Cinedams. Io volevo chiedere appunto, volevo fare una domanda sempre riguardante la scrittura del film. Se potete spendere due parole proprio su come vi siete approcciati al testo, alla sceneggiatura dal momento che è, come dire, è stata quasi proprio una sfida, nel momento che ci sono un cast molto ridotto, pochissime location, tutto il film deve reggersi sul dialogo tra queste due persone. Quindi come lei con Jacopo del Giudice vi siete confrontati per la scrittura di questo film? Grazie. Allora, io non la chiamerei sfida. È proprio un'idea di cinema che mi piace molto. Un cinema essenziale, a partire appunto dagli elementi. E proprio il concetto essenziale è quello che non puoi fare a meno. Quindi è un cinema che piace molto a me e anche a Jacopo del Giudice. Quindi ecco, non abbiamo mai pensato a un concetto di sfida, di fare qualcosa di complesso. Ci piaceva, ci piace questo tipo di cinema e ci emoziona l'idea di fare un film in tempo reale. Ecco, sono stati tutti elementi che ci hanno spinto, cioè il limite ecco, noi avevamo dei limiti ben precisi, che in questo sono il tempo e dentro il limite potevamo raccontare una storia, ecco, forse è proprio vera che quando uno ha il limite ha più creatività. Allora, faccio una domanda io alla protagonista, Barbara Ronchi, ti prego di peggiare il tasto centrale, si accenderà una luce rossa per cui il microfono è pronto. È un film che credo di non rivelare nulla di fondamentale, ma insomma è tutto sulle tue spalle, perché è praticamente una macchina da presa rivolta su di te in un lungo viaggio tra la disperazione e la speranza di riuscire ad ottenere una cosa. Come ti sei preparata? Come hai accolto la proposta che ti è stata fatta al suo tempo? Buongiorno a tutti. No, intanto quello che voglio dire è che, vero, la sensazione è quella di vedere un'attrice sola per più di 90 minuti. In realtà io non mi sono mai sentita così tanto in compagnia come in questo film, perché è stata una, a cominciare da Manfredi, Lucibello, per Giorgio per l'occhio, la produzione, tutta la troupe. C'è anche il nostro meraviglioso direttore della fotografia, Emilio, che è qui, ed è stata una troupe, era una troupe molto giovane, e una troupe che è stata il mio pubblico, cioè io l'ho fatto per loro questo film, in primis, e ricevevo il feedback subito. Io avevo chiesto alla produzione Manfredi di potermi preparare in un teatro per due settimane e quindi io mi sono chiusa in teatro, con Manfredi anche, perché avevo la necessità di fare questo film come se fosse un lungo viaggio, un lungo monologo, e quindi avevo bisogno di farlo da l'inizio alla fine. E quindi l'abbiamo fatto in teatro, prima. Per arrivare poi sul set e avere la consapevolezza totale di quello che sarebbe stato dal primo giorno all'ultimo giorno, perché farlo scena per scena sarebbe stato complicato, cioè capire quello che arrivava dopo. Ho bisogno di provarla tutta e provarla più volte, e anche sviscerarla, in un certo senso, che è una cosa che al cinema non hai tanto l'occasione di fare, perché hai due, tre take e basta. Invece avevo proprio, avevo la voglia di sbagliare, ecco, e poi arrivare sul set e provare a non sbagliare più, a non pensarci più e andare. Dopodiché è chiaro che un monologo non è mai… un monologo è un monologo se tu parli da sola, e questo non lo è. Io ho sempre parlato con qualcuno, che era la voce di Claudio, che ha fatto un lavoro incredibile, perché io ero in scena, lui no, lui ha fatto un film veramente da solo, e per me è stato il lavoro più grande, ecco, che io ho visto fare. Ed è la lunga notte di questa donna che era ferma, che prima di quella notte da qualche tempo sopravviveva, non sapeva nemmeno perché, come, è persa. E quella notte, con quella chiamata, con quella voce, qualcosa si risveglia dentro di lei e comincia a vivere, per una notte, che poi, insomma, non si speri che continui, però è un momento in cui una donna ferma ricomincia a vivere. Grazie. Hai anticipato un po' quella che era la domanda, perché volevo rivolgerla a Claudio Santamaria, appunto, che per tre quarti del film praticamente non c'è dal punto di vista visivo, ma è una voce. Tu come ti sei preparato? Perché non è semplice essere in sintonia con quello che succede invece davanti alla macchina da presa. Tu da lontano. come avete lavorato? Come tutti sei preparati? Buongiorno a tutti. Ma innanzitutto ero molto felice di non andare sul set e dovermi truccare, fare, eccetera, eccetera. È come quando si fa un doppiaggio, no? Che vai là e te ne freghi di come appari. E a volte per un attore questo è rilassante. Ma ci siamo chiusi in una sala di doppiaggio dopo che il film è stato girato, insomma, abbiamo girato l'ultima scena con Barbara e poi abbiamo fatto, scattato delle foto della loro storia, no? Abbiamo creato questo loro passato, quindi questi sono gli unici momenti, gli unici, diciamo, momenti della loro vita vissuta insieme su cui abbiamo lavorato. E poi ci siamo chiusi in una sala, insomma, sono stato abbastanza libero nel doppiare questo personaggio, nel dare la voce a questo personaggio, quindi anche fisicamente non volevo stare in piedi davanti a un leggio, ma stare seduto a volte per terra, alzarmi in piedi, muovermi, insomma, proprio mettere in scena, no? In qualche modo. Anche perché dovevi rendere l'attenzione da trasmettere poi alle orecchie del Barbara. Eh, assolutamente. Però sembra una semplice lettura, in realtà lì abbiamo cercato ogni volta di scardinare e quando eravamo contenti di qualcosa, allora ne facevo sempre un'altra di più, poi l'abbiamo rifatto da capo. Ricominciavo le scene ogni volta perché sentivo che c'era bisogno di, appunto non avendo la presenza fisica, che questa presenza al telefono fosse ancora più forte, no? E che questo dolore, questo suo tormento, questa sua sofferenza riuscisse a bucare, come dire, l'etere in cui era sparata e quindi abbiamo fatto un gran lavoro, a fine doppiaggio ero in lacrime, ero totalmente devastato, dice forse era meglio se giravo il film invece che stare solo in sala, quindi però è stato un lavoro molto, molto stimolante, io la penso come Manfredi che quando hai dei grandi confini, hai anche grande, tanta libertà, perché il fatto di avere dei limiti a me mi esalta, mi eccita e quindi mi dà, mi dà grande creatività. A me il risultato poi c'è. Domande? Volevo aggiungere una cosa. Io ho visto, hanno fatto un lavoro molto simile perché da una parte in teatro ho visto tutto il film recitato da Barbara, cosa che insomma è unica, io non l'avevo mai visto. E lo stesso con Claudio, in doppiaggio magari a volte si affrontava piccoli pezzi, però alla fine l'ha fatto tutto varie volte, una dietro l'altra abbiamo rifatto il film e quindi è stato interessante, un approccio totalmente diverso. L'ultima curiosità, poi spero che qualcuno abbia delle curiosità. Poi un'ultima cosa volevo dire, quello che dice Barbara sulle prove, che è stata una richiesta legittima di fare le prove, che dovrebbe avvenire sempre, per me, su ogni set, anche se non devi affrontare un film tutto da solo, due settimane di prove, tre settimane di prove in teatro sarebbe il minimo, perché poi alla fine devi... Ma so che è una tecnica abbastanza diffusa ultimamente, diciamo nel nuovo cinema italiano, se i tempi e probabilmente i soldi, qui mi rivolgo un po' alla produzione, danno questa opportunità. Ma secondo me si risparmia, ma secondo me si risparmia poi durante le riprese. Ma perché molto spesso io vedo dei set in cui ci sono ovviamente 50 persone con le braccia concerte, con gli attori che provano la scena per la prima volta e io dico ma perché perdere tempo, perché buttare denaro a fare una cosa che avremmo potuto fare prima a costo quasi zero, perché in teatro insomma non è così dispendioso, arrivi sul set e riprendi quello che tu già sai. Quello che tu hai già fatto, certo. Eh sì, dovrebbe essere così. È una piccola polemica da domenicale. Ma no, ma quale polemica? È una sottolineatura giusta secondo me. C'era una domanda, mi pare. Salve Giulia Biancone del Tempo. Volevo chiedere a Claudio Santamaria quanto questo Pietro rispecchia l'uomo di oggi, così fragile che si fa salvare da una donna, secondo te. Grazie. Grazie per la domanda. Innanzitutto prendiamo lo spaccato di queste due vite in un momento di grande fragilità per il mondo intero, quindi durante il lockdown ognuno di noi ha fatto i conti più o meno con tutta una serie di circostanze dolorose, insomma, di fatti personali importanti e quindi è simbolico del fatto forse che appunto l'uomo ha bisogno della donna per essere salvato in qualche modo e in questo momento storico comprendere questo è fondamentale. la grande sensibilità e comprensione e creatività femminile è un bene, un valore preziosissimo e quindi parlo per quello che mi riguarda, non voglio parlare di in generale, io sono un uomo salvato da una donna per esempio, ecco. Un'altra domanda, per favore, microfono. Sono uno di quelli, esatto, bravo, ma Fredi c'è l'opposto di quell'immagine là, cioè oggi è... Buongiorno, volevo sapere dagli attori, sono Gaia Simeonati di Red Carpet Magazine, dagli attori se vi siete già visti e cosa ne pensate della performance, se il risultato del film sullo schermo se l'avete già visto. Cioè cosa penso della mia performance? Preferirei parlare di quella di Claudio. Sì, infatti sarebbe meglio, gli daresti più opportunità di... Beh, io avevo molta paura all'inizio, ero veramente un po' terrorizzata, adesso devo dire, a Posteroli non lo so perché. All'inizio ero terrorizzata perché era una cosa che non... forse banalmente che non avevo mai fatto e quindi mi faceva molto paura perché avevo paura di essere... non vorrei ripetermi, ma avevo paura di essere sola e quindi di dover fare tutto da sola. In realtà poi mi sono resa conto che non ero affatto da sola, ma anzi che non sono mai stata così supportata come in questo film e per cui mi sono sentita totalmente libera. Ma rivedendomi è sempre un trauma comunque perché tu vorresti vedere un'altra persona sullo schermo che non sei tu e invece sei sempre tu. E quindi hai paura che qualcuno veda i tuoi segreti, che qualcuno... sai è un gioco molto intimo quello che facciamo, quello di noi attori. E non vorresti sempre svelare tutto. E quando invece un film ti mette di fronte a delle parti di te un po' nude, insomma si va in una sfera di intimità che mi imbarazza. Ecco, rivedere e riconoscere. Però insomma spero che poi invece gli spettatori nel film vedano solo Irene, perché io invece vedo tanta Barbara. Claudio? Beh io devo essere sincero non ho ancora visto il film, quindi non so ancora. Io l'ho visto e ti dico sei un bravissimo doppiatore, va bene così riserviamo. Allora posso dire io, visto che Claudio non ha visto, posso dire? No, e anche qua non vorrei ripetermi, però lui ha fatto, e non so come ci è riuscito, ma lui sembra che sta, lui con la sua voce ricrea i luoghi e quindi sembra che lui sia sul tetto di una casa, sembra che stia dormendo su un divano, sembra che stia facendo colazione, sembra che lui stia vivendo e non credo che sia solo una questione di voce, lui l'ha fatto con tutto il suo corpo, quindi lui a tutti gli effetti ha fatto un lavoro da grande attore, a differenza di me, in grande solitudine e questa è una prova attoriale per me incredibile. Quando io l'ho sentito e lui lo faceva con me, che avevo già fatto qualcosa senza di lui e quindi lui mi ha ascoltata, che è una cosa che io non ho fatto. E quindi ha fatto veramente quello che fanno gli attori, cioè ascoltare l'altro e reagire a quello che l'altro fa, lui l'ha fatto un grande lavoro da attore. No, ma infatti è una prova veramente di virtuosismo attoriale da parte di entrambi gli attori. Pier Giorgio Bellocchio, produttore in questo caso, non è semplice ricreare un film, fare un film ricreando una pandemia, cercando di bloccare strade, non è stato facile, credo. Non è stato facile poi fare un film con un budget piccolo e quindi che ha richiesto a tutti un grande sforzo, film che è stato realizzato al contributo di Rai Cinema e ai selettivi e quindi anche al micro. Si sente? Adesso si sente meglio? Grazie. Quello che ho detto fino adesso poi non era così tanto, si può anche soprassiedere. Eccoli, sono arrivati. Con gli altri produttori. Benvenuti Antonio e Marco Manetti, grazie. Riusciamo forse in tempo a fare una battuta. Però è un tempismo eccezionale. Abbiamo sei minuti. Se volevo dire qualcosa contro i miei soci, sono arrivati proprio... Sono arrivata la domanda produttiva. No, e quindi il film è stato un film complicato, è stato un film che siamo riusciti a realizzare bene perché da parte di Barbara prima di tutto c'è stata una dedizione assoluta al progetto per cui lei è stata in grado di mettersi a disposizione di un piccolo film che aveva pochi mezzi e che quindi è stato anche estremamente fisicamente faticoso perché poi questa fatica fisica in qualche modo è risultata anche utile a Barbara secondo me per riuscire ad arrivare a esprimere ciò che ha messo in scena. Ed era un film che fin dal principio era abbastanza chiaro, si dovesse poggiare su due talenti d'attore assoluti in qualche modo. E questo è accaduto per fortuna perché sia Barbara che Claudio sono riusciti a dare corpo a un film che poi non è vero a poche location perché in realtà ne ha tante di location perché il film è un viaggio reale da Monteverde a Santa Marinella nel senso che poi noi nelle varie tappe del film che abbiamo percorso abbiamo bloccato autostrade di notte fatte cose che su un film così piccolo oltretutto all'inizio ci sembravano anche impossibili invece devo dire ci siamo riusciti e siamo contenti perché poi era una scommessa, era un film molto rischioso un film molto complicato, un film che proponeva una situazione in cui bisognava avere una grande energia per riuscire a tirare fuori delle emozioni e credo che questo sia il merito del film in qualche maniera al di là di tutto perché è un film che emoziona, che ti coinvolge, che ti fa chiedere come finirà in qualche modo e quindi noi siamo contenti, poi ripeto il risultato poi è sempre la sala per cui noi siamo tutti molto come dire abbiamo grande curiosità di capire nella proiezione di oggi che cosa accadrà insomma perché questo è un film che ancora non ha avuto il confronto con la sala e quella di oggi sarà la prima vera proiezione con un pubblico vero e vediamo che cosa succede insomma Siamo praticamente alla fine, una battuta dei fratelli Manetti sulla produzione del film, veramente rapidissimi, un flash flash ma non si sente? Si sente? E cos'è? Ma un flash subito dopo Giorgio che mi sembra che abbia detto tanto la produzione del film noi semplicemente adesso arrivati con un treno in ritardo siamo un po' non so cosa si è detto noi siamo soprattutto A, orgogliosi di Manfredi, del secondo film che facciamo con lui speriamo presto di farlo un terzo e siamo contenti della sua crescita continua ci sembra che Manfredi è una persona che assorbe ogni giorno qualcosa è un assorbimento continuo e questo film è il frutto di un lavoro suo insomma di pensiero, estetica, dramma e siamo molto orgliosi di questo non riesco a essere flash comunque sì No, non ti preoccupare Purtroppo il vostro ritardo mio Ho quasi tutto il tavolo con due grandi interpretazioni come diceva Giorgio, è un film che se le interpretazioni funzionavano il film sarebbe crollato perché veramente, raramente in Italia si vede un film che si appoggia così tanto su degli attori e basta tutto il resto, io sul film, il giudizio mio è quello che è e stasera invece sapremo veramente se il film funziona come a noi sembra che funzioni Samantha, Antoni Nicola, Rai Cinema purtroppo in finale ma insomma, e sono i treni che ci hanno giocato un brutto scherzo com'è entrata Rai Cinema in questo progetto? Ma di questo progetto che esce veramente dalla volontà e dalla testa di Carlo Macchitella ne avevamo parlato tante volte con Carlo e perché era un progetto molto sfidante, molto difficile appunto tratto da questo romanzo della Montrucchio e poi Carlo ha proposto Manfredi Carlo, Imanetti e per Giorgio insieme Carlo devo dire perché era proprio qualcosa era un progetto che lui aveva in mente da molto tempo voleva farlo molto tempo ha trovato la sintesi con Manfredi con una riscrittura mettendoci dentro degli elementi più contemporanei appunto la pandemia rispetto a quello che era il romanzo e soprattutto quello che ci ha convinto a noi era Manfredi la riscrittura, ma gli attori, Barbara e Claudio che proprio ci davano una garanzia assoluta di a noi c'è la data proprio di suspense sul film e di tenuta proprio drammaturgica e di coinvolgimento emotivo su una storia veramente sfidante nel suo modo di essere raccontata Sì, soprattutto accompagnata da musiche direi veramente come dire, aderenti a quello che succede di Motta e grazie grazie di essere venuti di essere stati qui oggi e non riattaccare oggi pomeriggio c'è la proiezione? alle 17 al cinema? al massimo grazie grazie